Allora, ciao a tutti, per esempio io, quello del primo video Allora, questa è la strada che dovete fare, allora Qui c'è la formacia, come potete vedere, dove ce l'insegna Poi, camminate, sempre diritto Come sto facendo io Sì Diviamo che c'è la formacia, allora Poi, prendete questa strada qua Guardate, sempre più sopra Ecco qua, si arriva al mio presepe Ecco qua Ecco qua Ecco qui Queste sono le bassole Vedete, le bassole sono le case, le montagne Le peccolenne C'è il ponte Io ho detto, io ho detto ancora cose Però poi, vedete le persone, io vedo come è bello Qui c'è la grotta Con i messieri Ogni messiere dell'uomo Ah, il pezzo più forte La pantanella Poi abbiamo il palanchiere Qui abbiamo La casa delle pecore Qui abbiamo Un'altra rotta Come potete vedere Sempre con i messieri che fa l'uomo Comunque, io vi aspetto a tutti Se avete già la via Via Santa Catarina numero 21 Buon Natale Buon Natale Ciao a tutti Ciao Ciao